Ciao bambine e bambini di Controchiave e non, sono Delfina, l'insegnante di danza e oggi volevo proporvi una lezione e visione di uno spettacolo di danza molto famoso, il balletto triatico di Oscar Schlemmer, attraverso la lettura di questo libro, Balletto Bauhaus. Pittore, scultore, scenografo e coreografo, Oscar Schlemmer è stato uno dei protagonisti del modernismo tedesco. Il balletto triatico, che mise in scena nel 1922, era uno spettacolo d'avanguardia, assai lontano dalle tradizionali coreografie e dai vaporosi tutù tipici degli spettacoli classici. Tre performe eseguivano dodici danze indossando diciotto costumi sculture. Con le loro geometriche forme colorate, queste ingombranti armature esploravano giocosamente la relazione fra il corpo e lo spazio, mettendo però anche a dura prova le possibilità di movimento dei ballerini. Come suggerisce il titolo, il balletto è suddiviso in tre sezioni, ciascuna caratterizzata da un colore diverso, che corrisponde a uno stato d'animo diverso. Si passa così da una prima parte a carattere giocoso e burlesco, con scena e giallo-limone, per poi andare ad una seconda parte, cerimoniale e solenne, su un dominante rosa, per chiudere poi con uno stato d'animo molto mistico, una fantasia mistica, in nero. Nei costumi, realizzati con imbottiture e forme rigide di carta pesta, si combinano le forme primarie del cerchio e del cono, che assecondano le direttrici di movimento. Adesso vediamo insieme alcune pagine del libro e vediamo quali simoli di movimento ci possono dare. Ruotare, girare, volteggiare, roteare. In quanti modi diversi possiamo fare queste azioni? Ecco qui alcuni esempi. Potete immaginare di disegnare dei cerchi a terra, con i piedi, le gambe, le braccia o con qualsiasi altra parte del corpo. Immaginando di lasciare tantissimi segni nello spazio, come a disegnare qualcosa nell'aria. Potete girare su voi stessi, immaginando anche voi di avere un grande vestito, giocando a variare le velocità. E poi potete divertirvi a mettere tutte e quattro le azioni insieme, mischiarle, dividerle, confonderle, ripeterle, e trovare delle soluzioni sempre nuove, mettere una musica che vi piace molto e divertirvi inventando la vostra danza. E poi potete immaginare di disegnare di disegnare di disegnare di disegnare di disegnare. Grazie.